Tutto è pronto! Possiamo partire! La scuola è la scuola! Prepararsi a voltare a sinistra. 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 Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. Voltare a sinistra. 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 Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Prepararsi a 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 destra. Prepararsi a voltare a destra. Le operazioni che lavorano a destra. Grazie a tutti.